Ciao, io mi chiamo Serena Milano e questo è il mio primo libro. Si intitola Ho scelto di guarire e racconto la mia esperienza di guarigione dal cancro. È un libro per me molto importante, è stato un bel regalo che mi sono fatta scriverlo e volevo rivolgere, ho l'intento di rivolgere un messaggio importante ed è che con la volontà ogni occasione triste, brutta, ogni prova difficile della vita può diventare un'occasione. Penso che sia di interesse per tutti, sia chi ha avuto la malattia, sia chi non l'ha avuta. Il cancro è un argomento che conosciamo tutti, o perché è vissuto in prima persona o perché è vissuto da amici e parenti. Per me viverlo a 23 anni, nonostante non fossi assolutamente preparata per un'esperienza di questo tipo, è stata un'occasione, è stata l'occasione per rinnovare e cambiare davvero la mia vita. Sono entrata in contatto con nuove discipline come la metamedicina che io ignoravo totalmente, ho potuto quindi fare un lavoro su me stessa e oltre ad affidarmi alle cure dei medici per guarire il corpo, sono partita con un intenso lavoro per guarire la mia anima. E lo sto portando avanti questo lavoro, lo sto portando avanti curando l'alimentazione, curando il mio stile di vita e cambiando totalmente. Quando l'ho scritto ho pensato al libro che avrei voluto leggere io quando ero nel periodo della malattia. contiene un messaggio positivo e penso che davvero possa essere un segnale per tutti, per chiunque abbia voglia di ascoltare e confrontarsi un po' con realtà diverse, nuove e a volte complicate. Grazie. 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 Grazie.